L'anno scorso noi eravamo a Jeju, in Corea, e abbiamo festeggiato tutti insieme una vittoria storica. L'arte di Pizzaglio Napoletano è diventata patrimonio dell'umanità. Siamo all'UNESCO, più di 2 milioni di firme. Non l'avremmo mai detto, non l'avremmo mai pensato. Invece è stata una vittoria all'inizio e tutti dicevano sì, vabbè la Pizzaglio Napoletano all'UNESCO. Ce l'abbiamo fatta. Grazie alla Federico II, un'università conosciuta in tutto il mondo e quindi che dire, un bifolco come me qua non so cosa ci azzecca, però è un onore veramente. Viva la Federico II. Qui ho visto delle stanze che veramente respiri un'aria, si ritorna indietro nel tempo. Noi abbiamo delle strutture, abbiamo delle università in Italia che sono bellissime e probabilmente non sappiamo valorizzarle. Dovremmo veramente metterci una mano sulla coscienza e dire le cose più belle del mondo sono in Italia e in questo momento a Napoli. Viva la Federico II. Ciao. L'Università di Pizzaglio Napoletano è andato sin dall'inizio a fianco di questa vodebolissima iniziativa che finalmente riesce a dare a questo patrimonio intangibile, di cui ne abbiamo poi tantissimi in Italia, nel settore poi enogastronomico e agroalimentare più in generale, che ha una fortissima incidenza sull'economia italiana, e riuscire a dare una protezione, una prima, si tratta di una prima diciamo trincea che il Ministero degli Esteri e tutta la rete diplomatico consolare in giro per il mondo cerca di scavare per contrastare il fenomeno dell'Italian Sound. Una delle chiavi per le quali tutta la rete diplomatico consolare all'estero per esempio si sta impegnando in maniera incessante è quella proprio di raccontare lo storytelling in inglese, cioè raccontare la storia che c'è dietro un piatto, che c'è dietro un prodotto. Comunque l'arte del pizzaiolo britano si traduce naturalmente in i gesti, la manovanza e l'esperienza di un vecchio pizzaiolo che poi dovrebbe trasmettere al giovane pizzaiolo, questa è una cosa importantissima. La pizza è cultura naturalmente, ma senza la cultura del pizzaiolo non potrebbe esserci la pizza.